Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle ciaspole Quecha SH500 di Decathlon, ovvero le ciaspole che Decathlon dà a noleggio a chiunque si voglia avvicinare a questa disciplina. Vediamo nel dettaglio come sono fatte e cosa ne penso. Iniziamo subito analizzando la ciaspola dai materiali. La ciaspola è molto solida, anche camminando su delle rocce che affiorano i materiali non hanno nessun problema, ma anche utilizzandole e maltrattandole davvero i materiali con i quali fatta la ciaspola sono fatti veramente molto molto bene per il prezzo a cui viene venduta la ciaspola. Analizzando la parte posteriore troviamo un'ottima ramponatura composta da due fasce laterali più sei ramponi di cui quattro sulla parte anteriore e due sulla parte posteriore che le conferiscono davvero un ottimo grip e si utilizza molto bene anche su neve particolarmente ghiacciata, non sul ghiaccio naturalmente. Però sono fatti molto molto bene e garantiscono davvero un'ottima stabilità. Visto che parliamo di parte posteriore io continuerei analizzando la struttura della ciaspola parlando della sua galleggiabilità. La galleggiabilità è buona, vi dico la verità, è buona però c'è un grosso ma, un ma grosso come una casa, ovvero le ciaspole che vengono date in dotazione a noleggio sono il taglio medio, quindi per persone che pesano al massimo 90 kg. Ci andiamo conto che 90 kg totali, quindi faccio il mio esempio, se io peso 75 kg, ci aggiungo 3 kg di vestiario più 5 kg di zaino, arrivo già a 83 kg. Quindi se noi pesiamo già 85 kg queste ciaspole sforeremo i 90 kg. Quindi attenzione, se sforiamo i 90 kg non è che spacchiamo la ciaspola, sia chiaro, non è che i materiali si rompono. Semplicemente la galleggiabilità va via via scemando, ovvero affonderemo di più nella neve. Con le date a noleggio, come dicevamo, arrivano massimo a 90 kg. Se invece vogliamo acquistarle esistono 3 taglie, taglia piccola, media e grande, e la taglia più grande arriva fino a 120 kg. Per quanto riguarda in sella galleggiabilità, se stiamo sotto i 90 kg devo dire è molto buona. Davvero nessun problema, anche se non è molto fresca, la galleggiabilità mi è piaciuta, è uno di quegli aspetti che mi è piaciuto tanto. Guardiamo adesso invece l'allacciatura. Fatta molto molto bene, avvolge veramente bene il piede, molto fasciante, molto semplice da utilizzare con gli strap e con la chiusura posteriore. Mi è piaciuta molto, soprattutto la chiusura posteriore, perché ci dà modo di poterle togliere veramente molto molto facilmente. Cioè noi in 5 secondi andiamo a togliere le ciaspole. Si può utilizzare su diversi numeri di piedi, diciamo che le ciaspole sono abbastanza universali. Queste dichiarate sono dal 36 al 46. Io ci ho messo dentro il mio 48 e no, no, nessun problema. Tenuto conto che sul tallone c'è la distanza minima e massima del piede da inserire dentro per avere un'ottima camminata con questa ciaspola. La parte che non mi è piaciuta di questa allacciatura che non ha dei sostegni laterali. Mi spiego meglio. Quando andiamo a fare dei traversi e quindi il piede naturalmente tende a scivolare un pochino dalla parte, diciamo, verso valle, Questa ciaspola non avendo un sostegno laterale il piede scivola davvero tanto, tanto che se facciamo dei traversi prolungati il piede inizia a far male, perché naturalmente non è una posizione naturale del piede all'interno della scarpa e quindi non dà molto sostegno sui traversi. Io personalmente con queste ciaspole vi sconsiglio di fare dei traversi. Io ne ho fatto qualcuno, mi sono trovato abbastanza male. Parliamo della dotazione delle ciaspole, ovvero troviamo un'alzatacco posto qua sotto che si aziona molto facilmente, si aziona veramente bene col bastoncino sia a utilizzarlo che andando a riporlo e ha veramente studiato molto molto bene, ci toglie abbastanza angolo di impatto col terreno e fa risparmiare molto energie quando andiamo su terreni molto ripidi. Ma non troviamo nessun altro tipo di dotazione, ovvero la ciaspola comunque anche durante il trasporto tenderà sempre a fare questo movimento perché non abbiamo un gancetto che la ferma. Andiamo a parlare del peso. Questa ciaspola pesa 1,2 kg, quindi insieme arriviamo a 2,4 kg. Diciamo che se andiamo ad analizzarle e a confrontarle con altre ciaspole sul mercato forse è un po' pesantina, perché di solito le ciaspole 2 kg, 1,8 kg, più o meno è quello il peso. Però è comunque una ciaspola economica, di solito le ciaspole che pesano 2 kg magari le paghiamo dai 100 euro in su. Quindi direi che il peso ci sta in rapporto al prezzo venduto. Quindi, tirando le conclusioni, vi consiglio questa ciaspola? Sì, vi dico la verità, ve la consiglio, soprattutto visto l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Naturalmente è una ciaspola pensata per chi ci va occasionalmente, non è una ciaspola per chi va a ciaspolare tutti i weekend, è una ciaspola pensata per chi va a fare percorsi abbastanza turistici, quindi senza traversi o comunque percorsi molto semplici, anche pendenti, anche con una certa pendenza, comunque l'alzatacco funziona bene, ma niente traversi o roba strana, assolutamente. E secondo me è un'ottima ciaspola anche per il noleggio, se dovessimo noleggiarla, io penso che questa ciaspola qua andrebbe bene praticamente a chiunque, perché chi si avvicina col noleggio di solito va a fare escursioni piuttosto semplici, non va a fare chissà quali grandi itinerari. Perciò ragazzi, nella speranza di essere stato esaurente ed esaustivo anche per questo video, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!